alzate per favore il kirikaeshi normale tre volte il kirikaeshi normale e dopo cambiate aiuto il kirikaeshi tre volte il kirikaeshi il kirikaeshi normale dovete cambiare l'angolo il taglio è a 45 gradi e quindi il kirikaeshi dopo è venuto meglio di prima ok 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 un'altra volta solo toccando quando uno colpisce col den bisogna continuare nella posizione prima che la tuba tocchi la grata scendere giù in tuba seriai non va bene così da lunga distanza ok la motivazione per cui diventa difficile è che il corpo si rompia nell'attacco con il man perchè si va avanti con le spalle se uno sta dritto questo problema non sorge il kirikaeshi è troppo lungo e il colpo è troppo vicino ed è difficile continuare la distanza è troppo vicina e il punto di colpo non è quello corretto ok per piacere vai indietro ok scusa molti tagliano troppo profondamente questo non è più men ok non andate troppo giù con l'attacco bloccare lo shinai con i muscoli della schiena non soltanto con le mani usare i muscoli della schiena per bloccare il taglio ok per il prossimo men zubazzeriai andare indietro ogni rientro deve essere una distanza lunga e men zubazzeriai vittà men cotè zubazzeriai vittà do zubazzeriai vittà just singh zubazzeriai vittà con un solo respiro all the five nooo just the three times ok i tre tagli con un solo respiro allden si tu si ti 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 Dopo i 3, dopo i 3 Solo Ojiwaza, adesso chiede di fare Jigeiko, però i motodachi fanno soltanto Ojiwaza Solo Ojiwaza, circa un minuto e poi dopo si cambia Prima del Jigeiko, Kirikaeshi, due giri di Kirikaeshi Adesso proviamo a fare Jigeiko Vi piace Jigeiko? Dobbiamo attaccare Prima del Jigeiko Due giri di Kirikaeshi prima del Jigeiko E dopo il Jigeiko Per un minuto Vediamo di fare degli Ipon Quando avete finito con un motodachi spostatevi in fondo Su quello successivo, si Dobbiamo fare Ipon, Ipon, Ipon uno dietro l'altro Per un minuto Per un minuto AaaaaahQ Aaaaaah 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 Ah! 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 Ah!